salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video questo è un piccolo video ma che potrebbe interessare tantissimi di voi perché so che amazon non ha spedito a nessuno così sembra il dji mini 3 è questo drone superatteso che era in preordine su amazon dalla sua presentazione con data di consegna il 18 di maggio cioè ieri ma che poi in realtà non è stato spedito ma a tutti è stata spedita un'email dicendo che il prodotto non era disponibile quindi non sarebbe stato spedito e non si sa nemmeno quando potrà essere disponibile quindi tantissimi si sono trovati spiazzati perché convinti il 18 di avere il dji mini 3 pro fra le loro mani mentre si sono trovati solo un'email di amazon ovviamente la colpa probabilmente non è di amazon quanto di dji che avrà promesso droni o meglio quantitativi di droni ad amazon che però molto probabilmente non sarà stato in grado di fornire però questo video appunto è per segnalarvi che se qualcuno di voi volesse acquistare il dji mini 3 pro in versione con radiocomando classico o con l'rc controller lo trovate disponibile su beats model questo rivenditore ufficiale dji che ieri ne ha ricevuti 30 tra una versione e l'altra che quindi è disponibile subito all'acquisto con invio praticamente il giorno dopo che lo andate ad acquistare quindi se volete acquistarlo lì lo trovate ovviamente ne aveva 30 ieri non so adesso quanti ne abbia però attualmente se vi sbrigate lo riuscite ad acquistare il prezzo ovviamente è quello di listino dato da dji anch'io l'ho acquistato da loro mi dovrebbe arrivare domani quindi spero che questo video sia stato utile a tutti quelli che sono stati delusi dal preordine di amazon se è così ragazzi lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram porto tante novità anteprime spoiler di quello che vado a fare e dei prodotti che arriveranno qua sul canale e sempre se vi va iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdervi neanche un video volo una recensione un test tutorial una novità ciao al prossimo video ciao 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 ciao